Un po' di giorni stavo andando nel bosco, e neanche una piccola strada ho trovato questo. È un bellissimo, ma infortunatamente morto, rosso. Probabilmente è stato morto da un'auto o un'auto. In ogni modo è morto. Ma l'auto sembra intacto e completo, quindi ho deciso di prenderlo e prenderlo. Prima di tutto ho bisogno di skinnarlo. Potrebbe essere meglio usare una scuola più sceglie, ma non avevo un'auto disponibile al momento, quindi ho usato questo semidullo. Ho usato un'auto più sceglie. Ho usato un'auto più sceglie. While skinning pay attention not to ruin the teeth or the skull. . . Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Here we go! I still have to take away a piece of neck and I will be done. As you may have already seen in the badger skull video, if you are interested you can find the link in description, the best method to clean bones is maceration in my opinion. And now I am ready to start the process. All you need is an ice cream box like this one, water and patience. A week has passed and it's time to change the water. Due to the bad smell, working outside is a good idea. Here we go! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. You don't want to block the drain and you don't want to lose the small teeth that will surely detach from the skull during the cleaning process. Here you can see how well the maceration is working. You don't want to block the drain and you don't want to block the drain and you don't want to block the drain. You don't want to block the drain and you don't want to block the drain and you don't want to block the drain. You don't want to block the drain and you don't want to block the drain. Dopo 50 giorni di macerazione, l'olio externo è morto. Ma il cervello ancora deve essere rinforzato dall'interno della scala. Il cervello ancora deve essere rinforzato dall'interno della scala. Il cervello ancora deve essere rinforzato dall'interno della scala. E ogni week you change the water you will find it cleaner. Il cervello ancora deve essere rinforzato dall'interno della scala. Big pieces of brain are coming off. We are getting close now. This concludes the first part of the video. Be sure to subscribe if you want to be noticed when the second part will be posted. Thank you for watching. See you on the next one.